Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. È con un senso di profonda tristezza che ci troviamo a dover affrontare una notizia così dolorosa per il mondo della musica italiana. Enrico Musiani, il celebre cantante che tanto ha incantato ed emozionato generazioni intere, ci ha lasciati. Con i suoi 86 anni di vita, Musiani ha rappresentato un punto di riferimento, un faro luminoso nel vasto panorama musicale del nostro paese. L'annuncio della sua scomparsa è giunto attraverso un commovente messaggio postato dalla figlia, Sabrina, sul suo profilo Facebook. Musiani non è stato solo un interprete di successo, ma anche un artista che ha saputo catturare l'anima del nostro popolo con le sue melodie. I suoi brani hanno saputo entrare nelle case e nei cuori di tanti, diventando parte integrante della nostra cultura musicale. Originario di Livorno, Musiani ha iniziato la sua avventura discografica nel lontano 1964 con la Fonoladischi, conquistando ben tre dischi d'oro lungo il suo percorso artistico e pubblicando oltre un centinaio di album che hanno fatto la storia della musica italiana.